Benvenuti in questo nuovo GTA 5 e quest'oggi modalità che non facciamo a sacco di tempo ovvero aeroplani contro moto, ne ho specifico in realtà abbiamo tipo un terriciclo dobbiamo uscire a coprire tutto il percorso mentre gli aeroplani cercano di tarci una roba folle si urla si però è tutta così io parto subito di corsa percorri mi raccomando non cadere occhio perché avete one life ok ma ti dico solo Steph che per salire sull'aereo ha fatto 29 anni e proprio due anni ci ho messo no qui c'era ok non mi investire ti prego aspetta un caro Marco aspettiamoli qua Marco no io faccio il giro da questo lato il mio motorino il tuo sto andando ragazzi qui succedono cose no no tranquilli perché non corre il mio personaggio marci si è suicidato no raga è impossibile oppla eccolo senza paura ho incontrato di nuovo il mio motorino che stava ancora andando ma ecco il tre no no personal no e io sono escluso così esattamente uomo perre abbiamo vinto ragazzi si è stendato si si è rotto perre occhio perché possiamo morire da soli eh infatti ho notato non è semplice no Marco ce la può fare raga poi perché mi sta dando l'uscita dalle LTS io sono caduta io sono caduta Stef no non si capisce dove devi andare ci sono 500 strade no e perché Marco può farcela cosa ha tenuto? no no è solo la strada è solo quello Marco guarda se hai le armi è lì lo vedi lo vedi vuoi morire è bagliazza ciao 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 no è caduto bravo bravo alzati corri 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 novissimo scappa Stef ti rimasta vai ripoli la mano molto veloce non morire così ti prego vedi cosa ci posso fare te la sta rubando stupido stupido non mi fa prendere la moto la vittoria più triste respirazione ah ok balloncini balloncini raga carichi eh ok bene ok di qua non ho nessuna speranza su di te la sai no no non è vero ma avete capito quello è successo no no sei ribaltato con la moto ci sono sono dietro di te ma cosa serve in sto video lo massacriamo ah ok dove è finito è qua è qua è qua io vedo Stef che sto facendo qualcosa di boh campione calma eh dimmi è dietro di me Stef sono dietro di me vado troppo veloce non riesco a beccarla ah Marco attento mamma mia tranquillo tranquillo ma da Marci tranquillo 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 per la schivata bam boom ero lì vicino Stef ce l'ho quasi si stava prendilo prendilo no l'hai sfiorato ottimo potrebbe esplodere Stef perché c'era non esplodo Stef fai cambiare la molla l'aereo puoi si però deve fermarsi pure vai sull'arancione Marco comunque ti sfinisce mentalmente sto gioco no no è caduto è caduto Stef non ci credo ce l'ha per schivarti è caduto io penso che convenga far tipo così ok allora Marci questo tunnel qua è enorme non fregatene non puntiamo vado oltre vado oltre vado oltre ma andate oltre si 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 tranquilli io li osservo da qua ci osservi? si 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 di qua ah sono vicini Stef non riesco a girare io non ci credo che Marci è così è un bigone io penso di avere un bug si nel cervello avetevi ho fatto la stessa cosa che ho fatto adesso no lo stavo per prendere allora allora non giocheremo mai più sta modalità mi ha sfiorato ma vere lo stavo per prendere Stef mi ha parito dovete giocarla più safe è lunghissimo il percorso bisogna fare delle mosse meno rischiose più tranquille che mettono ansia che prima o poi qualcosa hitta dai kamikaze non funziona non ha fatto kamikaze Stef come va? bene sto girando anche io ma la sta gestendo anche? si 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 carino carino ma diamanti dove è raga? sono un po' indietro l'ho gestita con molta più calma di te molta più calma di te molta più calma perché almeno ci dividiamo mamma come ti ho schivato non mi hai minimamente schivato ti ho schivato un po' ti ho mancato io bro ti ho schivato un po' stef non vuole ammettere il fatto che l'ha mancato non mi ha neanche visto mi ha visto all'ultima avrà abbassato la testa nella vita reale guarda certo che cavolo nella mappa potevano mettere la rampa dove diamine andava eh no io mi sono persa ragazzi perché è uscito dall'LTS o? è normale ti compare ogni tanto tranquillo occhio marci si ma scusa ma perché sta cosa? sto fermo e mi dici è uscito dall'LTS ok ottimo adesso devi per forza prendere quota stef ti voglio campionissimo qua vuoi riuscire ad entrare qua dentro mamma mia pericolosa come scelta campione eh non ho sentito stef non riesco a trovarlo più stef quanti palloncini hai per il tuo compleanno sono tantissimi eh cioè mamma mia mamma mia ho anche un clown per la mia festa di compleanno ah l'ho sfiorato ah si ah si ti è arrivato l'invito? ferie mi ha appena sfiorato sai ferie mi ha appena sfiorato non lo sto più adesso ah eccolo di qua è morto? no non ci posso credo ma no dai ma me la stiamo a desterno è che abbastanza storia più triste che ho visto quest'anno abbiamo pure vinto la parte è talmente triste che è finita la partita march march non dice nulla non ci vuoi raccontare di questa rampa ha una mail ha una mail il creatore della mappa credo di no una peck non credo una peck è ancora meno no chiedo dopo lo cerco perché bisogna di rischi no no bisogna di rischi per riducito a due parole corri 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 che nessuno ha mai finito il percorso in tutto questo non è finibile non è finibile basta andare lenti lì campiare non è finibile quanto ero vicino a Ferre ragazzi quanto guardalo lo vedi camperando? si 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 lo vedi? che brutto ahah ok qual è il tuo piano campione? cosa spero di fare? cavolo Marci ma l'hai bloccato? vuole dare il colpo d'ala si no ci ha bloccato occhio Pere occhio ancora mi ha preso mi ha preso Pere sopravvivi sono attaccato all'aereo aiuto no mi butta giù mi butta giù si mi si è incastrata la ruota nella sua ala quindi non mi potevo spostare che ti devo dire oh oh teff ok mi sono distratto con Ferre colpito no 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 Steph non dovevi pensare a me dovevi correre dritto come fai sempre è arrivato sbagliata da dietro su dobbiamo rifarci ne Mark dobbiamo rifarci e allora di infичarli subito esatto Steph combina guai ahah marci sono cattivissimi c'è qualcuno che stava puntando eh me ne sono accorto tutti e due sono in giù che ci stanno appuntando con una cattiva in audita cioè loro dovrebbero volare e stanno facciamo insieme a voi mamma mia anche nel tubo con voi non vi mollo ha fatto warride con un aereo ragazzo sono la visore davanti ragazzi per ha fatto il warride sul tubo ve lo giuro con l'aereo pollia raga pollia sono matti cattivo è no ma non ci credo al pelo che fortuna qui posso ammettere di essere stato molto fortunato ma io avevo visto che feste colpiva marci marco marci tu devi capire che l'ho inventato io questo gioco c'è vero il fenomeno ma come zero win il modo distrutto giovane per il dietro di me stiamo chiudendo io però sto fumando penso che tra un po il mio non fumare per esplodere ciao stefo ti passi in mezzo cavolo ci è passato ok sta deve svolazzare deve fare il giro tondo però dietro c'è ferie dietro c'è ferie marci dietro c'è ferie di notta la vita di 22 stessi parti ho fatto il giro la ganna più bello di tutti questo raga ferie è arrivata come un tornado marco mi fa paura stefino riesco a passare più mamma mia ferie che sorpasso alla destra scendi dall aereo scendi dall aereo e che faccio a piedi per prendere paracadute ferie tipo delle paracadute che hai già un paracadute tuo quindi potresti non puoi salire per è un po marco sta volando via raga è un posto è un posto è un posto e non c'è nulla non c'è del l'ho sentito fino a non so dove marcio è tutta tua marco io sto facendo la strada quella non fare le secondarie che sono strette mamma mia non so come aiutarti cioè io corro ma non penso che serva molto nel fatto che io corro occhio occhio qua occhio ti ricordo che tra un po c'era quella roba lì che sali falla pianissimo falla pianissimo bravo pianissimo non in mezzo dimmi che è morto no ma vinto marci ho vinto no ho vinto schienato stare viva io sono ancora viva devo sperare che caso da solo parco ragazzi marci si è ribaltato non so come faccio a stare ancora vivo ma che sono i carri armati mi sono marcelli aerei marcelli aerei c'è quindi adesso cacci tu con l'aereo ma sono ribaltato i ruoli qui signori vai fare molto tiro io ci credo fino all'ultimo non smetterò mai di male che vada a tre minuti e pareggiamo ok vai salì non puoi a destra e lì a destra marco come faccio su conti va a correre non corri per è arrivato ma come ragazzo ma lo vedete lo riesce a vedere marco come vuola sto coso solo adesso sono destra e sinistra possiamo fare non ce la fa facendo su se stesso vero io lo guardo più triste del mondo corri corri io corro ti sta puntando però va al contrario lui ok è come una ragosta dovresti provare ecco la vedi dovresti provare a scendere e poi sparare ho però visto un aereo cadere da solo stanno cadendo gli aerei ma che succede aiuto stai con me non posso fare niente non è capito comunque sta fece un minuto e quaranta per finirlo sempre ti pareggiamo nel caso come si fa sparare marco ma che ne so esplode da solo no viene viene rischi rischi incredibili per marci scendi 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 e che facciamo forse ha delle armi pregata io non ho armi è armato è armato è armato schiva vero schiva aiuto che non sei morta ci sono eri che cadono schiva ok sempre la scena da firme stai faccio ma che sono un t-rex che mi segue porca miseria è successo alle armi che dovevo fare io ci ho provato per me hai fatto già qualcosa di fenomenale è tutto sì ma è stato sì ma è stato arrivasi arrivederci ciao a tutti